In oltre due anni ha raccolto circa 200 reperti databili tra gli anni 60 e 80, alcuni dei quali riportano bene in evidenza la scritta in lire. Enzo Suma, guida naturalistica e fondatore di Milenari di Puglia, realtà impegnata nell'educazione ambientale, raccoglie rifiuti in plastica spiaggiati. In questi due anni ho raccolto e selezionato numerosi reperti di questo tipo, sono quelli che io definisco reperti archeoplastici, cioè rifiuti del passato che hanno anche 30, 40 e anche oltre 50 anni e sono estremamente utili perché aiutano l'osservatore a riflettere sul problema, ad averne consapevolezza e magari anche a stimolare di nuovi comportamenti nei confronti dell'uso, del consumo della plastica, soprattutto quella monouso, quella uso e getta. Tra qualche anno in mare ci sarà più plastica che pesci, dice. Ora ha lanciato una raccolta fondi per realizzare un museo virtuale, ma l'obiettivo principale è coinvolgere le nuove generazioni. Il progetto è solo il pretesto per raccontare una storia senza fine, quella della plastica immortale che si accumula sempre più nei nostri mari. Il progetto archeoplastica è un progetto di crowdfunding, quindi una raccolta fondi sulla piattaforma di produzioni dal basso, dove tutti possono partecipare per sostenerlo e grazie al quale si realizzerà un museo virtuale, quindi un sito online dove tutti questi reperti saranno immediatamente disponibili a tutti, anche in 3D. E soprattutto l'obiettivo principale del progetto è quello di coinvolgere le nuove generazioni, quindi realizzare tutta una serie di mostre itineranti all'interno delle scuole.